Avete letto il comunicato dei tifosi del Napoli? La curva A, in vista della partita contro la Salernitana, si è fatta sentire. Ecco il messaggio mandato a tutto il resto dello stadio. Una partita che potrebbe diventare storica. Un match atteso 33 anni. Il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe vincere matematicamente il terzo tricolore della sua storia. Questa domenica la gara del Maradona delle ore 15 contro i Granata Potrebbe essere quella decisiva se la Lazio alle 12.30 sul campo dell'Inter non dovesse trovare la vittoria. Tutto pronto per la festa Scudetto. Anche la partita è slittata di 24 ore. Il Napoli dunque giocherà conoscendo già il risultato dei bianco celesti di Sarri. Fare tre punti con la Salernitana. Questo l'obiettivo dei partenopei. Parte del tifo organizzato del Napoli più precisamente, la curva A. In vista del prossimo incontro di campionato ha emanato un comunicato ufficiale. Dal titolo prepariamoci alla festa con mentalità. Ecco nello specifico il contenuto di questo messaggio. Ci siamo dopo aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite. Oggi abbiamo l'ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente. Per Napoli Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera per una sventolata storica. Il secondo appello invece parla di rispetto. Sappiamo che ci seguono in molti, ci guardano e ci invidiano da tutta Italia perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città. Per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo. Non imbrattate e non danneggiate muri, piazze, strade o monumenti. Noi Ultras la difendiamo. Tu rispettala.